Ho accettato molto volentieri di venire non solo per l'argomento, non solo perché è stata l'occasione di rivedere un sacco di vecchi amici che non vedevo da un po' di tempo, ma perché ricordavo quest'aula qualche anno fa, ero molto più giovane, forse avevo anche qualche cappello allora, in cui ho partecipato a una delle tante iniziative sui temi del mercato del lavoro in occasione di uno degli anniversari di Marco Biagi, credo proprio in questa sala, in questa aula. Io ho un compito specifico, e lo svolgerò, che è la relazione che mi è stata assegnata, ma anche per evitare di annoiarvi troppo, la terza relazione ce ne sono altre due, quindi la mattinata penso che sia pesante anche per voi, svolgo il compito che mi è stato assegnato e però provo anche a interloquire un attimo quelle cose che i primi due relatori hanno detto. Allora, per parlare di Bruno Trentino e del sindacato dei diritti, Bruno è l'ideatore della concezione del sindacato dei diritti in Italia e nel nostro paese, io ho preso a riferimento quello che è, diciamo così, il suo vero testamento politico, che è l'intervento che ha fatto nel 2002, 15 anni fa, 15 anni fa di questi tempi sono un periodo lunghissimo che ci separa da quell'epoca, l'intervento che ha fatto durante il conferimento che ha avuto all'Università di Venezia della sua laurea o d'onore. Se qualcuno di voi fosse curioso poi di leggerselo, sono una dozzina di paginette e poche cose, l'ho lasciato dal professor Zini che ve lo può fare avere e fare circolare, se servete ve lo mando anche per mail naturalmente, perché è più semplice. Non ho preso a riferimento, sono lì fuori i diari di Bruno per un motivo molto semplice, i diari sono dal punto di vista poco importati di un sindacalista intellettuale o di un intellettuale sindacalista, nel mix cambia poco la questione, un testo molto importante che va letto, riletto, approfondito nella sua questione, ma i diari non sono libri o non sono testi come gli altri, naturalmente. Sono considerazioni personali nel momento in cui le scrivi, è una specie di dialogo con se stesso che l'autore fa attraverso i suoi diari e non sono programmati per scopi futuri. Il professore potrebbe dirvi bene come l'impatto con la comunicazione cambia molto fra le cose che si pensano e le cose che poi si decide di dire, di esternalizzare su molte questioni. E quindi hanno un tono particolare, ma proprio per questo sono una fonte storica da trattare con cura, quindi diciamo particolare, a parte su queste questioni, che quindi non ho preso a riferimento per la discussione di questa mattina, prendendo invece appunto il suo intervento in occasione del conferimento della laurea. Ora, il nesso del ragionamento del Bruno Trentin sindacalista in questo caso, perché parliamo, quando fa questo ragionamento del Bruno Trentin, che già è segretario generale della FIOM, dell'FLM, ed è già segretario poi generale della CGL, della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, verte su un tema di fondo, che è, diciamo, uno dei punti fondamentali della discussione che stiamo facendo questa mattina, lavoro e conoscenza. Per lui questi sono i due punti fondamentali che devono stare legati assieme. E per questo vi dito, se avete voglia e tempo, leggetevelo, perché troverete dopo 15 anni di distanza una straordinaria attualità nelle cose che l'ora l'uomo dice, scrive e come poi si è evoluta la questione del tempo. Partendo naturalmente dal valore del lavoro, dal tema del valore sociale del lavoro che lui rivendita, e da invece una situazione del lavoro che è scivolata in basso. Naturalmente la crisi è una delle motivazioni importanti, la grande crisi è una delle motivazioni importanti perché è scivolata in basso, ma non è l'unico fattore per cui c'è questa svalorizzazione del lavoro. Ora, il professor Zini vi dava alcuni dati importanti nella parte finale della sua illustrazione sulla situazione del lavoro in Italia in quanto tale. Tutti noi siamo sommersi di dati sul lavoro. si dà i numeri, ma i numeri, come giustamente lui ha fatto, vanno anche letti e interpretati. Veniamo da un mese in cui, due o tre mesi, in cui tutti ci dicono siamo tornati alla stessa occupazione del 2008, quindi è superato il problema. Vero se si conta il numero di teste. Siamo tornati alla stessa occupazione del 2008. Non vero, se si prende riferimento alla quantità di lavoro, c'è quasi un 6% di ore in meno lavorate. Se si riportasse a unità a tempo pieno i lavoratori che ci sono, manca ancora un milione di persone. Più di un milione di persone. Allo stesso dato del 2008, quindi i dati bisognerebbe cercare di darli. Non sempre ognuno per prodomo suo, come provava a fare sulle questioni. Ma c'è soprattutto un dato fondamentale di qualità del lavoro. che è cambiata. Con agosto noi siamo arrivati al record storico in Italia del lavoro precario. Dei contratti a tempo determinato. 2 milioni e 8 di contratti a tempo determinato. Ma non c'è solo questo. Contemporaneamente è in crescita esponenziale il part time. Uno dice, va bene, c'è il tema della conciliazione fra vita e lavoro, quindi è un fatto positivo. Ma il 70% di questo part time non è scelto dalle persone. È subito, perché non trovano nient'altro. E come si dice, insomma, più o meno da queste parti, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Per poter sbarcare il lunario. Però questo dà un numero mostruoso, se lo sommate, di quasi 4,5 milioni di persone che vivono a cavallo, leggermente sopra, ma a cavallo dell'area di povertà. Alcuni perché hanno un salario normale, ma dei vuoti lavorativi. È il tema del precariato. Gli altri perché hanno circa metà stipendio. In Italia lo stipendio medio netto è 1.200-1.300 euro. Fate il 50% e voi capite che siete molto vicini a quella fascia della soglia di povertà. Questa è un'incidenza profondissima nelle persone. Dopo otto anni di crisi, la cosa che nessuno considera, perché noi stiamo facendo tutti un ragionamento quantitativo su questo aspetto, è come in un periodo così lungo mai conosciuto prima, la crisi del 49 ebbe impatti economici simili per quantità, ma nel giro di due o tre anni si aprì e si chiuse. Otto anni cambiano la gente. Sedimentano delle cose. E questo è il tema che noi dobbiamo affrontare e sviluppare su questi ragionamenti. Parto da questo perché il dato di partenza, come giustamente veniva fatto, è sempre molto importante nell'approcciare il merito dei ragionamenti politici che vengono fatti. Nel 2002 ovviamente Trentin parlava di un lavoro certamente diverso. La sbornia liberista era già presente, ma non ancora negli effetti drammatici che ci ha fatto precipitare questa crisi economica e sociale. Era prevedibile, ma non è stato fatto tutto quello che era possibile per evitare che questa prevedibilità si trasformasse in effettività. E sono evidenti, soltanto dai dati che vi ho fatto, poi potrei proseguire sui ragionamenti che fa il professor Zini, ad esempio su questo record europeo-mondiale che abbiamo sull'area dell'inattività. Chi sono questi inattivi? Ci siamo, abbiamo provato, lo trovate se lo volete sul sito della fondazione, a fare uno studio su questa questione. Perché avendo noi lo stesso tasso di occupazione della Spagna e avendo noi una disoccupazione dell'11%, mentre loro sono al 19%, i conti non tornano, perché alla fine non tornano. È evidente che nell'enorme area di inattività italiana ci sta nascosta una quota di disoccupazione che se prendete solo un dato, siamo stati più bassi dell'Ocse, così nessuno dice che lo facciamo per propaganda, cioè quelli che all'Istat dichiarano di definirsi disoccupati dentro l'area di inattività. Perché c'è anche questa domanda nei formulari dell'Istat. E hanno svolto prima un lavoro, quindi sanno di che cosa si tratta la vera disoccupazione italiana. In effetti si colloca fra il 16 e il 17%. A questo punto i dati tornano e sono dati reali con cui dobbiamo avere a riferimento. E tutto questo ha creato un fenomeno fenomeno su cui la crisi si è avvitata, che ha contribuito alla crisi e che ancora esiste e che si chiama diseguaglianze. Ecco, questo è il punto centrale del ragionamento da cui parto per parlare di Bruno Trentine e delle sue idee, delle sue proposte. Il lavoro può essere libertà? Lui risponde di sì. Il lavoro deve essere libertà e poi proverò a documentarlo. Ma ne consegue, se questo è vero, che uno stato di affiavolimento della libertà è la mancanza di lavoro. Le due cose stanno assieme direttamente. E se questa è la vera posta in gioco del conflitto sociale, la libertà anzitutto deve essere libertà nel lavoro perché attraverso essa che la persona umana, dice sempre Trentin, si autorealizza, cioè afferma il suo progetto di vita o almeno cerca di affermarlo. Può sembrare una affermazione banale, ragionata fra di noi, ma guardate che c'è qualche novità di spessore, ad esempio nel pensiero tradizionale, pensiamo sempre a quando è stata fatta, nel pensiero tradizionale presente nel movimento dei lavoratori e della sinistra. Il professore citava Marx. Secondo Marx, la libertà era la libertà dal lavoro. È una cosa profondamente diversa. Il lavoro come necessità, libertà dal lavoro. Trentin parla di libertà nel lavoro. E quindi la differenza non risiede nell'idea di libertà, ma nell'idea di lavoro che si propugna per il futuro. È un bel tema di ragionamento, di riflessione, per il sindacato, per la sinistra politica, per tutti quelli che volessero cimentarsi con questi ragionamenti. E naturalmente questo apre una nuova contraddizione accanto a quella storica fra sfruttati e sfruttatori su cui tutti noi continuiamo ad accapigliarci quotidianamente nei dibattiti che facciamo. Tra il lavoro inteso come posto di lavoro e il lavoro inteso come senso del lavoro. Il valore sociale del lavoro. Quella che adesso sembra una bestemmia, è detta così in Italia, ma che è un grande tema di riflessione per il prossimo futuro. E in questo concetto cambia anche l'idea di eguaglianza, che è diversa da un recente passato. Naturalmente resta in questi ragionamenti. Ma è un'eguaglianza intesa non come tutti uguali, ma come uguali condizioni di partenza per poter accedere e per potersi cimentare. Anche qui, se nel vostro corso di studi vi potete cimentare, io questi ragionamenti ho provato un po' documentali in giro, non li ho trovati in tanti altri pensatori dell'epoca. L'ho trovato in uno molto più arretrato, in Carlo Rosselli, che dice cose molto simili. E sul versante imprenditoriale l'ho trovato in un unico caso. Si chiama Adriano Livetti. Quando affronta e quando ragiona di questi temi e di queste questioni. Naturalmente Trentin di questo parlava anche agli imprenditori. Sottolineando la conoscenza di cui il capitale ha bisogno per aumentare la produttività. Non si tirava indietro dal ragionamento se è la produttività. Anche se qui guardate i dati. Quello che è la vera differenza fra l'Italia e il resto d'Europa non è la produttività oraria del lavoro. Noi siamo sempre stati molto bassi, ma non è scesa più di tanto. È la produttività totale dei fattori. quella che determina questo stato assoluto di arretratezza rispetto ad una situazione in cui quando tutti calano in Europa noi caliamo di più, quando tutti gli altri crescono noi cresciamo di meno. E come capite così non si arriva mai. È una corsa a tappe su cui non riesci mai ad arrivare alla stessa situazione. Economia della conoscenza quindi è il termine, il ragionamento particolare che viene varato per parlare appunto di diritti e del sindacato dei diritti come anche elemento di elevazione della qualità della vita. Naturalmente tutto questo porterebbe, non c'è tempo, ad un ragionamento molto più approfondito sul modello produttivo di questo Paese. Le cose stanno sempre insieme. Noi non solo siamo per antonomasia il Paese della piccola e piccolissima impresa e la crisi ha falciato da questo punto di vista perché il numero di imprese che sono chiuse in Italia restringendo fortemente la nostra base produttiva è più ampio rispetto al resto rispetto al resto d'Europa. Ma siamo un Paese di piccole e piccolissime imprese che è basato su un meccanismo di produzione che al massimo è per la regione in cui è ubicata quell'impresa molti addirittura per il comune in cui è ubicata quell'impresa. Imprese monoproprietarie e che hanno una dipendenza totale dall'accesso al credito. Pensate come la grande crisi può avere inciso su un meccanismo che ha queste caratteristiche. Se la banca non ti dà il credito chiudi l'impresa è familiare quindi prima di tutto prima dell'impresa tendi a proteggere la famiglia perché altrimenti perdi 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 tutto quanto il meccanismo di difesa per uno che produce per quella mattonella lì più in là più in là non va non è tanto l'innovazione è il contenimento del costo per tentare di andare avanti in attesa di tempi migliori e poi si vedrà che cosa succede. Ora in questo ragionamento e finisco perché sto rapidamente esaurando il tempo mia a disposizione ci sta il tema del sindacato dei diritti e della solidarietà naturalmente che è un pezzo del ragionamento questo tema dell'economia della conoscenza dell'elevazione della qualità del lavoro porta anche qui è un passo non indifferente che significa? Significa che un sindacato che non si occupa più di salario di orario di organizzazione del lavoro no chi pensasse che Trentino su questo non era attento sbaglia quando faceva i suoi contratti stava attento anche alla lira di contrattazione c'era ancora che faceva su queste questioni ma a differenza di un sindacato di mestiere non può pur salvaguardando i suoi associati e i lavoratori non tener conto dell'interesse generale della società questa è la vera differenza che si viene che si viene a volte più facile fare l'uno a volte più facile l'altro cosa è più giusto naturalmente dal mio punto di vista è facile capirlo che è l'essenza stessa del sindacato confederale confederale italiano un sindacato che ha l'ambizione di superare le tante differenze troppe differenze che esistono nel mondo nel mondo del lavoro quelle storiche nord-sud ne parlavi tu tu prima uomo-donna storica questa differenziazione in Italia le nuove che si sono aggiunte via via giovani anziani italiani immigrati è un quadrilatero di differenze molto complicato da gestire da affrontare ma era questo il suo chiodo fisso io ricordo che siamo negli anni 90 ancora da segretario del sindacato della comunicazione di Trentino aveva un chiodo fisso sui doppi regimi contrattuali quelli che differenziavano i giovani dagli anziani i giovani nella prima assunzione dagli anziani nelle differenziazioni di inquadramento e salariali nella loro prospettiva in una delle tante aziende che seguivo ci fu un accordo che aveva esattamente queste caratteristiche lui mi telefonò e me ne disse di tutti i colori dopo un po' sono riuscito a fermare degli guarda che però noi non l'abbiamo firmato ora lui non ha fatto una piega ma ha detto vedi perché è sbagliato quell'accordo ecco l'uomo aveva quelle caratteristiche insomma era sostanzialmente fatto 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 così in questo lungo percorso naturalmente ci sono stati successi e battute di arresto ci sono stati errori e ci sono state sconfitte se vuoi andare avanti è meglio ammettere sia gli errori che sconfitte perché fanno parte della riflessione che tu devi fare per ripartire per ripartire e andare avanti ci sono stati problemi di consenso fra le persone perché i lavoratori lasciamo stare il mito della classe ma sono persone normali che vivono le contraddizioni del loro tempo e se c'è un'unica torta da spartire non la puoi ingrandire come è chiaro a tutti voi con più la spartisci e con più piccola è la fetta che ognuno torna e non è semplicissimo vi assicuro non è semplicissimo fare una discussione anche con la gente che abbia queste caratteristiche ora nel futuro del sindacato dei diritti e della solidarietà ci sono per me qui vado lui non poteva essere arrivato a questo punto di ragionamento a tre punti fissi e chiudo con un riferimento poi alle cose che ha detto il professore ci sta un tema che riguarda la rappresentanza deve finire questa storia in cui ognuno autodichiara che cosa rappresenta ci sono settori che se vi divertite a sommare la autodichiarazione di ognuno ci sono più iscritti che lavoratori credo che non sia possibile insomma questo proprio non è possibile la certezza della rappresentanza che deve essere fatta fra un mix di iscritti certificati da un ente terzo certificati da un ente terzo in questo caso abbiamo scelto il CNER come ente certificatore e dal voto quindi l'espressione di consenso da parte di tutti i lavoratori questo significa un tema di democrazia perché non so se arriveremo a dare piena attuazione all'articolo 39 della Costituzione ma potremmo trovare un modo insomma in qualche modo in cui si dà certezza perché in questo meccanismo di conteggio che ha il 51% della rappresentanza può firmare un accordo ma poi lo deve sottoporre al voto di tutti i lavoratori e delle lavoratrici e quindi si contempera questo meccanismo del doppio binare storico del sindacato confederale italiano e poi ci sta naturalmente tutto il tema degli interventi contrattuali ma non c'ho tempo e lo taglio via sulle questioni del welfare integrativo che è il terzo corno della discussione che dovremmo fare in futuro se non bastasse complicare la vita perché la vita è difficile ci sta quello che comporta l'ingresso di una quarta rivoluzione industriale come quella che è stata qui annunciata c'erano i prodori già prima sì lo sapevano benissimo nelle banche che sarebbe successo questo ma le cose a volte si usano anche oltre a essere e si usano per scopi che servono per portare a certi tipi di soluzioni che cosa significa per noi dal punto di vista del sindacato dal punto di vista produttivo sarebbe troppo lungo l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno di tutti i meccanismi di produzione significa molte cose quando innovi comunque cambiano tante cose adesso qui siamo a Modena è la patria della Ferrari ma quando non c'entra con l'intelligenza artificiale ma quando siccome è appena uscito che un morto su sei al mondo è per questioni di smog di inquinamento atmosferico e siccome non siamo in un periodo bellissimo insomma dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico credo che un'accelerazione molto forte sul motore elettrico ci sarà nei prossimi anni molto bene per la nostra salute in una provincia in una regione in cui la componentistica auto ha un peso così importante bisogna sapere che il passaggio dallo scoppio al motore elettrico significherà molti pezzi in meno che vengono prodotti nella componentistica si riduce drasticamente il numero di quantità di pezzi necessari e qualità molto diversa del tipo di produzione questo metterà in difficoltà a tante imprese e tanti occupati non si può che fare così bisogna prevederlo bisogna cercare di prevederlo ora l'introduzione della tecnologia 4.0 significherà esattamente questo un pezzo di lavori spariranno bisognerebbe spingere un po' di più l'acceleratore sui lavori nuovi che 4.0 anche per voi credo bisognerebbe spingere un po' di più sui lavori nuovi che l'introduzione della tecnologia 4.0 porterà porterà all'interno delle imprese il tema vero è che succede intanto della gran parte delle persone che lavorano e qui ma penso che poi ne parla Sinopoli nel suo intervento c'è un tema di o c'è uno straordinario intervento di riqualificazione di chi oggi lavora oppure i guai saranno guai saranno guai saranno guai grossi ma se lo volete da un altro punto di vista questo tipo di ragionamento e finisco l'intelligenza artificiale è un'applicazione che una volta che è stata inserita non è che è finita continua ad apprendere continua a devolversi non mi veniva il a devolversi dopo la sua messa in funzione autonomamente ora questo cambierà tantissime cose pensate ai temi della sicurezza si dice benissimo una parte dei lavori gravosi saranno superati i più insalubri eccetera è vero quindi forse potrebbe calare ancora un po' di più quella curva sui morti sul lavoro che ci è stata fatta vedere ma al contempo nasceranno patologie nuove che l'istituto di sicurezza linea li sta già cominciando a censire e dal punto di vista delle malattie psichiatriche c'è un forte aumento di cui dovremmo in qualche modo tenere conto nell'approcciare queste questioni che noi non conosciamo ma sulle quali dovremmo cimentarci oppure dal punto di vista del rapporto del sindacato con i lavoratori battaglie epiche sull'introduzione del telelavoro e della privacy ve le ricordate? ecco pensate in una fase in cui perfino il vostro frigorifero manda sul cloud i vostri gusti personali che cosa può significare sul tema del controllo dell'influenza dei comportamenti dell'azienda sul lavoratore e quindi del suo rapporto con l'organizzazione del sindacato è un mondo è un mondo nuovo a cui bisognerà pensare con cui bisognerà cimentarsi il tema però riporta lì in cui c'è la straordinaria attualità delle questioni che ha scritto che ha detto oppure nella sua epoca Bruno Tentini tutto questo non si cambia arroccandosi si cambia impadronendosi della conoscenza e questo è naturalmente credo l'insegnamento per tutti noi che dobbiamo continuare a portare davanti